Anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, l'Associazione Samarcanda Teatro, l'Associazione Mulieres ed il Comitato Provinciale di Teleton organizzeranno una serata di teatro al fine di raccogliere i fondi per la ricerca contro le malattie genetiche. L'evento avrà luogo il 13 gennaio alle 19.30 presso l'Auditorium San Gregorio VII di Battipaglia e vedrà come suo momento centrale la messa in scena da parte di Samarcanda Teatro della commedia scritta da Luigi Pirandello, Il berretto a Sonagli, rappresentata nella versione napoletano di Edoardo De Filippo.